Sul numero di settembre di touring siamo andati alla scoperta del parco naturale delle Prealpi Giulie che è una piccola valle in provincia di Udine, quindi siamo andati a incontrare i valigiani della Varrese a scoprire quello che hanno ad offrire per i turisti, loro e in altre piccole località della zona dove c'è da scoprire una natura davvero incontaminata, una tradizione folclorica molto forte soprattutto con il carnevale e un'ospitalità di montagna ben radicata e tutta da scoprire.